Buonasera, bentrovati. Parliamo di un argomento oggi molto importante per la Catania sportiva. C'è veramente un cosiddetto epilogo ad una situazione paradossale, particolare, che ha fatto sicuramente scattare l'ira di tanta gente. Parliamo del calcio Catania e delle ultime vicende che l'hanno un po' ripresa e portata con i cosiddetti piedi per terra. Una formazione costruita in un modo, cambiata durante il suo percorso in un altro, due allenatori, perché possiamo dire ormai passati del Catania, che hanno cercato di dare risposte diverse, cosa che invece ha portato? Ha portato all'esasperazione della gente, perché, vedete, sì, da una parte Cristiano Lucarelli è riuscito ad approdare in finale di Coppa Italia di Serie C. E questo permetterà alla formazione catanese di arrivare come terza classificata nella graduatoria del campionato di Serie C. Però c'è anche il problema della particolare attenzione verso i bassi fondi della classifica, perché la squadra è a sei punti dalla zona play-out. E, dobbiamo dire, e non si gioisce mai delle disgrazie altrui, ma dobbiamo dire, per esempio, che la Turis ha perso a Giuliano e quindi è rimasta a sei punti di distacco. Se avesse fatto risultato, la distanza ci sarebbe ulteriormente dimezzata. Allora, cosa decide la società per rispondere al malumore della piazza? Si sente con Cristiano Lucarelli questa mattina, il vicepresidente Grella, e bisogna fare una considerazione su Grella. Attenzione, qualcuno dice, ah, perché non si dimette Grella? Grella è il braccio di Pelligra, è lo stesso progetto. Non può prescindere dal fatto che Grella sia colui che deve aiutare il Catania nella sua crescita, perché è un progetto che ha ideato lui, che ha portato lui a Catania. Quindi a chi dice Grella dimettiti deve stare un po' attento a queste considerazioni, perché Grella è come se fosse Pelligra, quindi è il proprietario del calcio Catania di oggi, questo calcio Catania rifondato sulle ceneri del famoso Catania 46, dopo il fallimento che tutti ormai conoscete. Allora, io dico, va bene, nel calcio paga sempre l'allenatore, e in questo caso paga nuovamente l'allenatore Cristiano Lucarelli, nonostante il suo blasone, il fatto che sia stato un grande campione, un grande professionista, un grande attaccante, però purtroppo nella guida di questa squadra, e anche, dobbiamo dire, con amarezza, la ternana che lui guidava in passato, non hanno avuto risultati. E una cosa che mi piace evidenziare è che probabilmente Lucarelli non è libero da condizionamenti psicologici, perché ha dei problemi, io non voglio nemmeno citarli, ha dei problemi con un figlio che vuole risolvere, che mi auguro riesca a risolvere al più presto, perché questo non gli dà serenità. E sicuramente Cristiano Lucarelli patisce anche questo, la mancanza di serenità, di potersi occupare del lavoro delicatissimo per la piazza di Catania, che ha accettato di portare avanti. Ecco, questo potrebbe essere una delle motivazioni, anche perché abbiamo visto negli ultimi tempi che la squadra in pratica si è un po' sfuggita di mano, anche le scelte fatte, i cambi repentini, i cambi di squadra ogni turno, sì, magari ci sono stati anche degli infortuni, ci sono stati anche giocatori fuori forma, però ecco, questo ha un po' destabilizzato tutto l'ambiente, quindi questi calciatori, tra l'altro entrati in corsa, la grande maggioranza di loro, dovevano cambiare il passo, non l'hanno cambiato, anzi hanno fatto peggio, la partita con Lavellino e la cartina di Tornasole, non puoi prendere tre gol nel primo tempo, poi sì, la reazione, i primi dieci minuti, il 3-2, poi di nuovo si è spento l'interruttore, allora c'è qualcosa che in casa Catania non funziona, ebbene, a pagare questo scotto, ovviamente, è stato l'allenatore. L'allenatore paga, si dimette, una rescissione, presumiamo noi che sia consensuale, perché da quello che ha raccontato Grella, si sono sentiti con il tecnico questa mattina, hanno discusso della mancanza di possibilità per cambiare il trend, considerando che siamo in pieno campionato e che ora il Catania avrà due partite casalinghe, due partite con il Potenza, domenica e poi venerdì prossimo giocherà con l'Audace, sempre al Massimino. Quindi noi pensiamo che oggi con questa svolta che potrà esserci e entrando nella testa dei calciatori che dovranno in qualche modo, prima di tutto, loro farsi un esame di coscienza, perché qui paga l'allenatore, ma quanti calciatori sono immuni da una situazione drammatica che il Catania sta vivendo? Ecco, questo lo dobbiamo necessariamente dire. Allora, calciatori del Catania, fate quadrato, fate sistema, non possiamo permetterci di perdere questa possibilità che la Coppa Italia potrebbe regalarci, perché attenzione, se finisce nei play-out questa possibilità verrà totalmente cancellata. Ecco, questo volevo dire. Allora, nel comunicato stampa che è stato pubblicato alle 15.48 dall'ufficio stampa del Catania, si dice che si fanno ovviamente gli auguri a Lucarelli, che c'è stata questa discussione con il Vicepresidente, che si è deciso insieme di lasciare e quindi presumiamo che ci sia un accordo consensuale, che ci sia la possibilità di rescindere il contratto senza ulteriori echi negativi. Con lui lasciano anche altri componenti che sono arrivati insieme a Lucarelli, il tecnico di seconda Richard Vanigli, il preparatore atletico Giuseppe Colombino e l'allenatore dei portieri Pietro Spinosa. È chiaro che ora la domanda è chi sostituirà Lucarelli? Ebbene, oggi, al momento, non ci sono certezze. Si può dire che probabilmente sarà Zeoli a traghettare la squadra, ci sono tanti uomini di campo all'interno della società, che sono sempre ai bordi del campo, che hanno calcato palcoscenici importanti, che potrebbero essere utili alla causa rossazzurra. Bisogna fare quadrato per trovare una soluzione. Questo è un stato, un campionato, possiamo definirlo a oggi, maledetto. Mancano parecchie giornate alla fine, speriamo che cambi realmente il trend con assunzioni di responsabilità e pensiamo, una cosa che volevo anche aggiungere, si fanno anche dei nomi di personaggi importanti nel calcio, per esempio hanno accostato al Catania anche Pippo Inzaghi, che era a vedersi una partita, la partita Avellino-Catania, ma era anche a vedere Giuliano Turris. Insomma, Inzaghi, ex allenatore della Salernitana, sta cercando di indottrinarsi nei campionati di Serie C. Chissà, potrebbe essere un'ipotesi che oggi non possiamo ancora dare. Lasciamo il calcio, lo sport che ha preso praticamente tutto il nostro tempo. Abbiamo solo due minuti per potervi dire che siamo felici del fatto che le forze dell'ordine continuano ad operare al massimo. Io ho preso degli appunti su operazioni di polizia condotte dalla Polizia, dalla Guardia della Finanza e dai carabinieri. L'ultima nell'ordine è quella dell'arresto di un spacciatore di droga internazionale che negli anni passati a Malta aveva smerciato droga e è stato intercettato mentre comodamente faceva un altro lavoro, non quello dello spacciatore o meglio, noi pensiamo che sia così, però lui faceva l'aiuto cuoco, è stato fermato e pensate che con le leggi maltesi rischia anche l'ergastolo per questo reato che ha portato avanti negli anni. Era ricercato dal 2021. Poi abbiamo la Guardia di Finanza a Palermo che invece ha sequestrato alla mafia, altro duro colpo al potere criminale, 26 milioni di euro a un soggetto, Rosario Castello, di 72 anni, imprenditore del settore auto di lusso e è stato condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa e quindi sono scattati i sequestri. Questo imprenditore, secondo gli inquirenti, avrebbe procurato auto pulite utilizzate poi dai latitanti nel mandamento palermitano di Brancaccio tra cui Lorenzo Tinirello e Cristoforo Cannella. Queste sono notizie che noi tra l'altro abbiamo approfondito nel corso del nostro telegiornale. I carabinieri invece a Palermo, per concludere, hanno anche qui predisposto il sequestro di circa 500 mila euro a persone vicine al potere malavitoso e si tratta di beni sequestrati 350 mila euro a letteria caponata e 200 mila euro a carico di Vincenzo Urso perché sono annessi praticamente ai clan mafiosi del palermitano e questi carabinieri. Questo per dire che sia finanza, polizia e carabinieri lavorano quotidianamente per garantire la nostra incolumità e per scoperchiare quelle pentole sempre chiuse dal potere criminale. Siamo arrivati alla fine di questo spazio di topic, come sempre vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime edizioni, però focalizzando la vostra attenzione anche sui nostri numeri telefonico, il 379 224 24 20 e la nostra mail redazionechiocciola spazionostizia.it. Continuate a scriversi, a mandare i vostri suggerimenti, le vostre considerazioni. Grazie per avermi seguito e arrivederci.